All'ospedale di Ribera c'è bisogno di medici per far funzionare il reparto di medicina del fratelli Parlapiano e la soluzione adottata dalla direzione strategica dell'aspede e Agrigento continua ad essere quella degli ordini di servizio con i quali si dispone che a sopperire a questa necessità debba essere lo scarno personale medico in servizio al Giovanni Paolo II. L'ultima comunicazione interna alla data di ieri. Niente di nuovo sotto questo cielo insomma, ma adesso la situazione sta degenerando. Nella medicina di sciacca i medici in servizio sono pochi, oggi appena 5 a fronte di un fabbisogno di più del doppio con una condizione che vede il reparto saturo di degenti con 20 posti letto su 20 al momento tutti occupati. Medici ai quali dunque tutto si potrebbe chiedere fuorché dovere garantire turni in altri ospedali e questo anche se quelli di sciacca e Ribera sono formalmente ospedali riuniti. Certo se fossero realmente riuniti di medicina ce ne dovrebbe essere solo una e non certo due e invece ce ne sono due ma si sa come funzionano le cose nella sanità pubblica ed è lampante la condizione di una gestione sempre più etero diretta da una certa politica. Tutto questo sta generando una condizione di autentica disperazione tra i medici di sciacca ai quali evidentemente a questo punto viene impedito perfino il diritto a godere delle ferie cosa che per inciso è già accaduta la scorsa estate e il loro grido d'allarme tanto per ricorrere ad un inevitabile ossimuro e silenzioso e per le ragioni a tutti note. Hanno bisogno però di far notare come pur di far funzionare la parvenza di un reparto di medicina all'interno dell'ospedale di Ribera non si esiti a mobilitare i medici dell'ospedale di sciacca e piuttosto inevitabilmente torna a fare discutere in questo quadro desolante l'assenza di Fabio Termini all'ultimo vertice agrigentino nella sala riunione dell'aspe di Agrigento quello convocato 48 ore fa da Mario Zappia per comunicare ai sindaci la decisione della direzione strategica dell'aspe di fare ricorso all'esercito di medici italo-argentini per fare fronte alla cronica indisponibilità di operatori sanitari per il fabbisogno dei cinque ospedali della provincia evidentemente tuttavia non solo di questo si è discusso visto che proprio all'indomani di quel vertice dall'aspe partita l'ennesima richiesta di mobilità di medici della medicina da sciacca in favore del reparto di medicina di Ribera ospedale di Ribera che malgrado la pandemia sia finita sembra stia continuando ad esercitare le funzioni di covid hospital e ai pochissimi pazienti affetti da coronavirus che al momento è dedicata all'ala di quel reparto di malattie infettive che funziona con una mezza dozzina di operatori sanitari assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa eppure in caso di necessità i pochissimi pazienti affetti da coronavirus vengono ricoverati anche a sciacca di conseguenza appare difficile comprendere la reale necessità di turni aggiuntivi di medici dal Giovanni Paolo II al Fratelli Parlapiano quando si potrebbe utilizzare quel personale cosiddetto co-co-co mobilità di medici che non riguardano solo quelli del reparto di medicina ma anche quelli degli altri reparti dalla pediatria alla cardiologia tutti chiamati a garantire turni negli altri ospedali della provincia di recente soprattutto a Licata che essendo ospedale di base per dirne una non ha l'emodinamica mentre ha bisogno di dimostrare di avere i numeri per essere un punto nascite e dallo scorso primo luglio la per certi versi clamorosa presa di posizione dei pediatri di sciacca che hanno dovuto dire di no ad una disposizione di servizio per garantire un turno all'ospedale di Licata per evitare di lasciare sguernito il turno di notte all'ospedale di sciacca l'argomento è da mesi al centro di durissime prese di posizione da parte del comitato civico per la sanità che invoca da parte dell'asp ma soprattutto dal governo della regione il rispetto degli impegni quelli che dovrebbero caratterizzare l'ospedale di sciacca come dea di primo livello condizione che deve convincere Zappie che il Giovanni Paolo II non è uguale a tutti gli altri ospedali della provincia perché non è possibile equiparare un dea di primo livello con un ospedale di base ospedale di sciacca in gravissima emergenza dunque con un pronto soccorso che scoppia e se la medicina non riesce a dimettere pazienti per mancanza di medici è complicato ricoverarne altri con la conseguenza che la lista d'attesa diventa insostenibile con un'urologia con un solo medico con un'ortopedia che è quel reparto dove Zappie ricorda continuamente che vengono destinati medici dagli altri ospedali a garantire turni invertendo in qualche maniera quella mobilità di cui tanto qui ci si lamenta l'ospedale di sciacca è nel caos e tornando alla medicina a questo punto la provocazione d'obbligo è di tutta evidenza che due medicine reparti doppioni non ci sono altre parole per definirli tra sciacca e ribera non riescono a funzionare occorrerebbe che Mario Zappie avesse il coraggio di chiuderne una e concentrare il poco personale disponibile in quella rimanente e non necessariamente a rimanere aperta dovrebbe essere la medicina di sciacca potrebbe essere benissimo quella di ribera ormai questo non desterebbe alcuna sorpresa visto l'andazzo i medici hanno però il diritto di lavorare più sereni e al pari di tutti i cittadini hanno perfino il diritto di godere delle ferie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti